Allora, salve a tutti, sono Luca Vecchi di The Pills, purtroppo non potrò essere con voi al Future Film Festival perché purtroppo e per fortuna mi stanno spedendo a Bogotà per un lavoro dall'altra parte del mondo. Tra l'altro non ho fatto la profilassi, non ho fatto i vaccini per le malattie esotiche, quindi molto probabilmente contrarò la febbre gialla o la malaria e morirò sul campo, ma poco importa, insomma. Prima di abbandonarvi, ringraziandovi, mi chiedono di rispondere a una domanda. Che cosa ha fatto il tubo per il cinema e cosa ha fatto il cinema per YouTube? Cosa ha fatto il cinema per YouTube? In realtà il cinema per YouTube non ha fatto molto, ha semplicemente sfruttato i social e questi player su internet per cercare di pompare l'evento, perché adesso fondamentalmente andare al cinema è diventato un vero e proprio evento. Che cosa invece ha fatto YouTube per il cinema? YouTube per il cinema ha sicuramente offerto sperimentazione, e mi auguro che il percorso tradizionale, cioè ovvero quello di cortometraggio attraverso i festival, si allarghi, allarghi il bacino utenza grazie a internet, grazie a questi player e grazie all'interconnessione che ci dà la possibilità di fruire nuovi registi, nuove leve, nuovi cortometraggi, nuove idee, perché la fruizione dell'idea è quello che c'è alla base, insomma, del concetto, credo, del festival. Una volta fare cinema voleva dire essere in qualche modo un professionista a tutti gli effetti, un fisico, il direttore della fotografia non aveva il riscontro della camera da subito, ma doveva insomma aspettare, fare quei due calcoli per la sensibilità della pellicola, per l'esposizione, l'otturatore, tutto il resto. Oggi non abbiamo veramente scuse, oggi veramente la qualità, lo standard alto, la tecnologia alla portata di tutti, quindi ci vuole sperimentazione, ci vuole di sporcarsi le mani, ci vuole di provare, provare e riprovare, e questo è quello che mi auguro, quindi vi auguro anche a voi un buon festival, speriamo di vederci presto, scusate ancora per la mia assenza. Un bacio.